Incontro in provincia a Padova con gli enti locali e l'assessore alle attività produttive del Veneto, Roberto Marcato, per parlare di comunità energetiche. Una legge statale le ha istituite, mancano ora i decreti attuativi. Sono uno strumento importantissimo perché consentono, c'è una legge proprio dello Stato, che consente la costituzione di queste comunità energetiche e quindi diventa uno strumento di aggregazione. Per esempio un condominio si possono mettere insieme e costituire questa sorta di società, chiamiamola così, e si può produrre energia rinnovabile, ovviamente stiamo parlando di energie rinnovabili, e questo consente di avere energia pulita da una parte e un costo assolutamente contingentato, perché ci sono tutta una serie di contributi che abbassano poi il prezzo, il costo finale. La tempesta perfetta che ci è creata per i costi dell'energia ha colpito duramente famiglie e imprese venete. Noi stiamo portando avanti in tutte le province, stiamo facendo una sorta di tournée in tutte le province del Veneto per spiegare che cosa sono queste comunità energetiche, come farle. I comuni che diventano il nostro interlocutore principale saranno i vettori principali nei confronti poi dei cittadini. C'è da dire che stiamo aspettando con grande ansia la firma dei decreti attuativi, cioè c'è una legge, mancano i decreti attuativi, la bozza di norma è stata mandata a Bruxelles, stiamo aspettando che torni indietro, però noi vogliamo fare tutti i compiti per casa, ad essere pronti nel momento in cui arrivano i decreti attuativi, per partire domani mattina con queste comunità energetiche. Un incontro preliminare per non farsi trovare impreparati quando le regole saranno più chiare. Il Veneto come l'Italia, come tutta l'Europa, ha dimostrato la propria fragilità energetica. Siamo ahimè dipendenti da paesi come la Russia, ma anche altri paesi dove i rapporti istituzionali sono fragili perché sono interlocutori dove per esempio i diritti civili non ci sono, le libertà sono poche, quindi più indipendenti siamo da questi paesi meglio è. Grazie. 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 Grazie.